Il luogo di lavoro era pericoloso, non in linea con le misure di sicurezza e prevenzione, così la perizia sciocca nell'inchiesta sul tragico incidente sul lavoro che costò la vita a Giancarlo Andreoni, 56enne a Retino, operatore ecologico per una cooperativa titolare di un appalto dell'azienda per lo smaltimento dei rifiuti Sei Toscana. È stata infatti consegnata la relazione dell'ingegner Nicola Roveri, l'esperto nominato dalla procura di Arezzo che ha studiato l'intera vicenda. Era il 26 ottobre 2018 quando il 56enne, che si trovava a Camucia al compattatore, scese da un camion che aveva appena fatto accesso all'aria e fu travolto da un altro mezzo che aveva ingranato la retromarcia. Fu investito alle spalle. Per quanto lo stesso operatore ecologico avrebbe delle corresponsabilità, era infatti distratto, la perizia ha stabilito che l'aria non sarebbe sicura per le manovre di scambio che svolgono i mezzi pesanti. Era infatti troppo stretta e i camion potevano entrare ed uscire solo a marcia indietro. Inoltre mancava sia la sbarra che il semaforo per regolare l'accesso dei camion. Responsabilità che vengono ricondotte a Sei Toscana utilizzatrice dell'aria. Conclusioni quelle dell'esperto in linea con quella a cui era arrivato anche il PIS della ASLA. Per il drammatico incidente la procura di Arezzo ha iscritto nel registro degli indagati sei persone, tra queste anche il direttore generale di Sei Toscana. Il PM Angela Masiello adesso potrebbe chiudere in tempi brevi l'inchiesta con le richieste di rinvio a giudizio per omicidio colposo.